Con la candidatura di ben 11 residenti alla presidenza del comitato, il quartiere di San Felice e San Savino si avvicina progressivamente al rinnovo del suo direttivo, attualmente retto dal presidente uscente Gianluca Fregoli. Nell'assemblea informativa organizzata al Parco Civico nel tardo pomeriggio di ieri, la cittadinanza ha potuto discutere e affrontare le problematiche che tuttora interessano al quartiere, come il cantiere in zona centro riguardante le scuole, causa dello spostamento dell'anno scolastico e delle classi a Palazzo Duemiglia in via Brescia già dall'anno scorso, e il dilemma del medico di base, con incertezze sulla riconferma del medico attuale e sulle nomi del sostituto. Le elezioni ci saranno il 24 di ottobre, dalle 14 alle 18. Problematiche vere non ce ne sono state, ci sono ovviamente dei disagi che riguardano comunque un cantiere in mezzo al paese, quindi il rifacimento della scuola ovviamente ha spezzato il paese in due, però ci sono comunque degli sfoghi sulle altre strade, quindi non sono comunque problematiche pesanti. I cantieri procedono bene. Il medico di base del quartiere è una problematica, nel senso che comunque ne abbiamo uno, poi ovviamente i problemi dati dal Covid sono stati sicuramente motivo di problematiche legate a appuntamenti e adesso si vede di andare verso una soluzione. La mancata presenza a causa impegni istituzionali dell'assessore alle politiche e della partecipazione Rodolfo Bona non ha fermato il programma della riunione, dove i candidati alla presidenza del comitato hanno potuto esporre ai cittadini pareri, perplessità e possibili soluzioni ai problemi del quartiere. Per quanto riguarda la scuola non avendo figli l'ho vissuta un po' con un problema di viabilità, cioè che si va tutto perché naturalmente la strada penso che si era chiusa ancora per qualche mese, per cui rende un po' acerbo il centro del quartiere, se così si può dire. Per quanto riguarda il medico di base, il dottore è sempre molto disponibile, diventa un po' difficile raggiungerlo, io abito vicino però all'ambulatorio per cui quello per me non è un problema, magari per qualcun altro anche il parcheggio è un po' difficile da trovare, perché i lavori hanno impedito il parcheggio esistente, adesso non si può più utilizzare per qualche mese, comunque qualche soluzione transitoria secondo me si può tranquillamente trovare, per facilitare la vita di chi deve andare dal medico, che è una cosa molto importante.